C'è il point per 30, questo primo set Bari, Ivan Zaytsev, mamma mia Mamma mia, l'attacco di Ivan Zaytsev, Putin Adesso è la sera nulla nel set point Zaytsev E' un attacco all'azoto liquido Volto a sbriciolare, disintegrare, cristallizzare le braccia Non del muro ma di pippolanza Difficile reagire, difficile prendere questo